Tutto inizia così. Non è vero. Inizia così e continua così. Oggi sono in consegna alla Vivai di Rosano a Firenze. Mentre le immagini scorrono, cerco di portarvi con me per vedere in prima persona quale è stata la mia manovra e farvi capire le difficoltà di questa entrata. Questa è la strada principale che io dovrò fare per poi immettermi qui a sinistra. Questo è il mio amico Palo. Anzi, non è mio amico. Proprio per niente. Lei invece è la mia amica Siepe. Lui invece è il mio amico Cancello che devo prendere. Ops, scusate, non devo prendere. Ci devo passare dentro. La freccia indica la manovra che devo fare in retromarcia. Adesso bando le ciance e via il video. La freccia indica la manovra che devo prendere. La freccia indica la manovra che devo prendere. Sarai un po' troppo a posto. Sì, beh, ma mi tiro dentro intanto, dai, che così passano gli altri. Eh, se è troppo a posto, poter si vada bene. Fai passare, fai passare. Vai, vai. Non c'è da nessuno. No, 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 fai passare. Intanto mi riprendo così la prendo più stretta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie per la visione. In particolare va a Mario, quello che ora arriva con il muletto. Ciao Mario, grazie, alla prossima avventura. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video un bel like e se vi piace il canale, seguitemi. Ciao da Pier Antonio, Pier Tutor. Alla prossima avventura.